Io faccio parte del gruppo politico e legale e abbiamo voluto rispondere alla seguente domanda che è appunto come l'Europa può continuare ad avere un impatto positivo e rimanere coesa nel momento in cui va ad approcciarsi con altri rivali come può essere appunto la Cina o l'America. Abbiamo poi diviso questa domanda in sottoproblemi e sottosoluzioni e essenzialmente abbiamo capito come in Europa ci siano varie differenze culturali, geografiche e di risorse che quindi necessiteranno probabilmente di programmi che si basino proprio su due velocità e come legalmente il processo diciamo ordinario non sia corretto e giusto per le problematiche da risolvere e nemmeno con l'emergenziale. Quindi pensiamo se è necessario creare un terzo genus per appunto la procedura legislativa.